Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della GiraGira Camper SRL, io sono Giovanni e sono uno dei consulenti vendita. Come prima cosa vi chiedo di seguire il canale e schiacciare la campanellina per essere sempre aggiornato. Oggi di cosa parliamo? Parliamo del nuovo Elnac T-Loft 450 che è ormai un must per il marchio perché è il veicolo probabilmente più venduto, 6,99 con il garage posteriore e il basculante. Veicolo che non cambierà, tra poco ci sarà la fiera di Parma con tutte le novità, non cambierà appunto, dicevo, sia come veicolo interno e esterno, come estetiche, come accessori e neanche come prezzo, quindi i prezzi non verranno modificati. Il veicolo in questione può essere acquistato sia a base, cioè nel senso senza inserire i vari pacchetti, sia con dei pacchetti aggiuntivi che noi abbiamo inserito e che inseriamo sempre in tutti i T-Loft, ad esempio il pack T-Loft appunto e il pack Expo. Questi due pack ci danno i cerchi in lega e gli oscolanti plissettati, ad esempio nella parte parabrezza più finestrini. Questo ci rende molto più semplice andare a oscurare totalmente la cabina. Dei pack fanno parte anche il pannello solare e la retrocamera, quindi sicuramente è un pack a tutti gli effetti che serve perché dà degli accessori che sono assolutamente importanti. Bellissimo il T-Loft, è la via di mezzo per quanto riguarda Elnag, abbiamo un bellissimo bloc panoramico sulla parte davanti del cupolino e l'estetica mantiene sempre un aspetto assolutamente accattivante, nel senso che abbiamo questo bianco con gli adesivi grigi che si segue totalmente la parete e poi finisce dietro con il paraurti che è bicolore. Lo potete vedere su quest'altro T-Loft, è un paraurti che prende il colore dell'adesivo e poi va su un grigio leggermente più chiaro. Aggiungo anche che il paraurti è sempre bianco, quindi sempre in tinta con la cabina. Su questo veicolo abbiamo deciso di avere anche il DRL LED che si illuminerà una volta acceso il quadro, una volta girata la chiave e il climatizzatore automatico, ci sembrava una cosa che andasse a corredare meglio totalmente il camper, quindi renderlo un veicolo di qualità leggermente più alta. Le maniglie sono sempre in tinta con la carrozzeria e qua abbiamo solito di avere un Peugeot 2.2 140 cavalli. 140 cavalli che chiaramente già di serie ha sia il cruise control che nel caso di comando a volante, se uno li volesse, può anche inserirli insieme ad una radio doppio DIN. Questo è il gavone, il gavone posteriore è molto grande perché, come dicevo, è un garage posteriore. Ve lo faccio vedere totalmente aperto. Abbiamo una porta identica sia a destra che a sinistra, mentre all'interno troviamo la prolunga per fare il letto nella parte DINET, i cuscini aggiuntivi appunto per fare il letto in DINET, la presa del 220 e la luce. Quindi il gavone è anche illuminato. La parte posteriore, come dicevo, l'adesivo va a riprendere il colore delle fiancate, logo ELNAG, retrocamera innestata nello spoiler del terzo stop, quindi sicuramente un veicolo fatto molto bene e curato nei dettagli, come piace a noi e come piace sicuramente ad ELNAG. Saliamo a bordo del veicolo, notiamo subito che la porta è una porta larga, quindi XL, con la chiusura automatica, quindi quando chiudo la portiere si chiude anche la porta dietro, luce rnaio fisso con oscurante, quindi possibilità di oscurare totalmente il veicolo. Sopra la porta troviamo la luce esterna, ovviamente a LED. Totalmente a LED il camper appunto, sia interno che esterno. Prima di salire vi faccio vedere anche la zanzarina presentata, molto comoda, sempre a memoria, quindi la porto dentro, la porto fuori e va a riprendere le sue pieghe. Molto bello quest'anno sicuramente il lavoro fatto da ELNAG sui tessuti, tessuti molto 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 belli e secondo me molto molto comodi, li ho provati diverse volte e sicuramente questa qui è una dinette che è molto conviviale, perché oltre ad avere l'angolo con la panca alla mia sinistra, ho anche una bellissima panca a destra e i due sedili davanti che girano, che ruotano. Sui sedili davanti non abbiamo inserito i coprisedili, ma ci sono di serie i coprisedili in tinta con il posteriore, quindi con il tessuto utilizzato nella parte dinette. La prima panca si può ovviamente aprire e si può addirittura eliminare, per far viaggiare su questa panca, sull'angolo, il quinto posto, perché questo qui come veicolo è un cinque posti omologati. Il letto invece, a livello di letto come numero di posti, abbiamo due posti nella matrimoniale posteriore, due posti nel matrimoniale basculante che dopo vi farò vedere, e un posto nella parte davanti con la gamba pneumatica che è semplice da abbassare, perché basta schiacciare il tastino che vedete lì nero e spingere in giù, e lei si va totalmente a incastrare nel buco che troviamo qui, che va a riprendere esattamente la forma del tavolo. Andando avanti troviamo la cucina. La cucina quest'anno nasce con tre fuochi in linea, molto bella perché mi dà comunque la parte prima dei fuochi per poterci lavorare, uno spazio per l'appoggio che può sempre servirmi per appoggiare un piatto o qualsiasi altra cosa. Bello il lavello che è incassato in alluminio, finestra sempre presente sulla parte cucina con oscurante e zanzariera, tutte le finestre sono dotate di oscurante e zanzariera, però lo faccio vedere per chi chiaramente non conoscesse ancora bene il nostro mondo. Le finestre sono dotate di pistone, il pistone non è quello di una volta che va a scatti, ma lo fermo a che misura mi serve aprire la finestra e poi lo riporto indietro molto semplicemente così non c'è il rischio che si possa bloccare o rompere. Abbiamo un altro pensile molto ben studiato perché è già parzializzato con una mensola quindi mi dà la possibilità di avere un carico doppio. Sotto i pensili c'è sempre la striscia LED, ovviamente comandabile con il pulsante. Sopra la cucina abbiamo invece una bella plufoniera LED che si accende con tasto a sfioro, sempre touch. Sempre sopra la cucina, quindi di fianco alla nostra plufoniera, abbiamo un bello blu trasparente con oscurante e zanzariera. Quindi è un veicolo che, come spiegavo, si può assolutamente chiudere totalmente quindi hai la possibilità anche di dormire molto facilmente perché vado ad oscurare sia la parte posteriore che la parte davanti con gli oscuranti che vi ho fatto vedere prima. Bel cassettone sotto la cucina con un cassettino che può fare la porta posate. Un altro pensile in basso dove abbiamo gli attacchi, i rubinetti più che gli attacchi del gas. Pensile lungo invece nella zona lavello con molta profondità. Nella prima ovano si arriva quasi alla parete quindi vi parlo di circa quasi un metro, un metro e qualcosa di profondità e un cassetto che viene fuori, un carrello più che altro che viene fuori che mi dà la possibilità di caricare. Questo è leggermente più corto perché sotto passano gli impianti più che sotto, dietro. Successivamente abbiamo il frigo. È un frigo slim, abbiamo un bel frigo con la sua cella freezer trivalente quindi gas 220 e 12 volt e un carrello sotto sempre che fa da frigor che può servirmi per la verdura, per le bottiglie o per quello che uno ci vuole mettere chiaramente. Sopra abbiamo uno spazio vuoto e Elnag tende a fare una spallettina leggermente più alta in modo che se mettete qualcosa non si rischia di perdere durante la marcia. Alla mia destra invece c'è il bagno. Bagno molto bello sia per il fatto che il design è assolutamente curato con una bellissima colonna, una doccia con dietro un finto mosaico sia perché la doccia è molto larga molto larga la doccia con la porta della doccia totalmente rigida quindi che si può andare a aprire e chiudere totalmente sulla parte laterale e quindi vado a fare una cabina doccia molto molto larga doppia piletta di scarico che vi serve nel caso foste in pendenza o se foste in pendenza sicuramente quella è l'unica cosa che ve lo fa vi permette lo scarico. Il WC può essere ruotabile è ruotabile e può essere ruotato dicevo in tutte le direzioni in modo da agevolare anche i più alti. Finestra o palina per la privacy con oscurante e zanzariera anch'essa. Il lavello è sempre incassato avrei fatto probabilmente questo rubinetto un po' più alto perché così facendo essendo così basso mi dà fastidio se mi dovessi lavare la faccia invece con un rubinetto leggermente più alto mi veniva molto più semplice. Abbiamo il pensile in alto che è molto grande forse io l'avrei parzializzato dietro vediamo il regolatore di carica del pannello solare che troviamo ovviamente in tutti i camper che montano o che decidono di essere ordinati con il pannello solare appunto se il cliente decide di avere il pack T-loft il pannello solare viene installato e il regolatore lo troverete lì dove vi ho fatto vedere. Lo vi ho fatto vedere prima in cucina abbiamo una mensolina che può sempre servire come piano d'appoggio chiaramente questo dietro è un portaspezie mentre in basso abbiamo comunque un'altra mensolina che può sempre servire per dei bartolini o portaspezie anch'essa. Prima del letto troviamo alla mia sinistra un bellissimo armadio molto grande con la barra appenderia già inserita è veramente molto grande e vi dico che nella parte camper è uno degli armadi più alti quindi che mi dà la possibilità veramente di appendere vestiti senza rovinarli. La parte posteriore è corredata da due pensili veramente enormi anche qui avrei fatto una parzializzazione almeno di uno in fondo troviamo invece le mensoline sia da una parte che dall'altra invece le luci che troviamo i faretti che troviamo nella parte dove andiamo poi ad appoggiare la testa sono faretti dotati di usb alla base per la carica dei telefoni come vedete lì sia quello di destra che quello di sinistra molto molto elegante è la testata del letto il colore del legno va a riprendere il colore predominante perché è sempre questo legno chiaro l'impellicciatura in ecopelle e questi cuscinoni che vanno a alleggerire un po' il design interno del veicolo che sennò sarebbe molto molto pesante invece in questo modo lo ringiovanisce letti di qualità con dog in legno e rete di protezione per i bambini quindi se faccio dormire dei bambini non ho il rischio che cadano oblò trasparente anche in questo caso quindi molta luce naturale all'interno del veicolo con oscurante zanatariere anch'essa luci sempre con accensione e spegnimento a sfioro e una bella tasca in ecopelle prima di salire il secondo cassetto è sempre di carico quindi comunque dell'infradito delle scarpe o qualsiasi cosa ci vogliate mettere comunque ci sta è un vano che comunque tiene molta roba vi faccio passare dall'altra parte così vediamo il basculante basculante non gigantesco come ovviamente deve essere un basculante su un semi integrale da 6,99 ma in basculante di tutto rispetto chiaramente fatto per due persone un leggermente a svaso per permettervi di uscire sempre dalla porta per un discorso di sicurezza anche in questo caso manteniamo le doghe in legno e le reti di protezione però c'è una rete di protezione in più perché in questo caso il letto è esposto per due lati al vuoto quindi si rischia che i bambini o chiunque andasse a dormire può cadere sia da una parte che dall'altra quindi con queste reti andiamo a sicuramente mettere in sicurezza chi dorme sopra lo tiriamo su vedete che è molto semplice chiaramente anche sopra abbiamo la luce sempre a led per la lettura o per ovviamente quello che vi serve e andiamo a vedere i pensili davanti i pensili davanti sono uno a sinistra leggermente sacrificato perché c'è la meccanica del basculante e la possibilità di azionare il basculante manualmente dietro questo tappo se dovesse bloccarsi stessa cosa a destra ovviamente a destra risparmiamo la meccanica appunto della basculante e ci troviamo un vano veramente molto più grande bella anche l'idea di inserire delle tendine a pacchetto che non servono a molto a livello di utilizzo ma perché comunque chiaramente abbiamo l'oscurante e la zanzariera ma servono per il design quindi per rendere ancora più elegante il veicolo e sicuramente un design italiano la finestra di qua è una finestra fissa che si può trasformare anche in apribile con dei pistoni la fanno fissa perché la porta aprendosi se vi dimenticate la finestra aperta si va a rompere la finestra ecco se posso dare la mia idea se posso dire la mia idea io avrei inserito una finestra scorrevole perché tanto chiunque comprerà il veicolo vorrà una finestra scorrevole che si apra non ha senso avere un lucernaio ecco questo lo consiglierei ad Elnag nella parte anteriore invece troviamo dei vani di carico in alto probabilmente avrei fatto delle chiusure dei pensi a tutti gli effetti perché i vani sono comunque molto grandi quindi la roba ci sta e l'oblo bellissimo che vi dicevo prima che si può chiaramente oscurare e ha anche la zanzariera perché è apribile è leggermente meno apribile delle finestre perché nella posizione in cui è non farebbe fatica poi a tornare indietro ma si può comunque aprire per tutta la lunghezza del braccio quindi direi sicuramente un'apertura considerevole tenendo conto che di aria ne entra questa è la meccanica Peugeot che vi dicevo ovviamente di serie loro vi danno anche il volante e il pomello in pelle il monitor della retrocamera che viene adagiato indossato o usate quello che volete come termine sullo specchietto originale del veicolo e davanti abbiamo il plissettato che va ad unirsi al centro fatto in questo modo in modo che vada a evitare che si possa rompere lo specchietto e che invece si possa chiudere l'oscurante come dicevo tutti e due i sedili sono girevoli e anche il tavolo si può spostare in tutte le posizioni quindi lo posso tenere al centro è un tavolo veramente molto grande e mi permette di mangiare comodamente anche da qua se notate io nel caso dovessi mangiare a parte che possa ancora venire un po' avanti con il mio sedile ma mangio molto facilmente anche da questa posizione chiudiamolo aggiungo che anche la panca a sinistra quella che fa ad angolo può essere totalmente eliminata cioè questa parte può essere tirata via sia a livello di cuscineria che a livello proprio di mobilio per far sì che chi viaggia a sinistra possa mettere le gambe giù e non debba per forza viaggiare con le gambe su anche perché dopo un tot di ore di viaggio può dar fastidio non agli isofix quindi sono per i seggiolini lo dico è un attacco classico a tre punti con la cintura di sicurezza come facevamo nelle macchine prima nelle auto prima e quando inserite il seggiolino l'unica cosa che vi consiglierei è di eliminare il cuscino in basso in modo da non far alzare troppo il seggiolino che poi magari diventa veramente molto alto nella parte interna abbiamo nella parte interna della porta abbiamo una bellissima parete molto ben definita molto ben costruita con questo marrone un po' più scuro che va a contrastare il marrone chiaro del mobile uno specchio lungo che serve sempre e un braccio porta tv che va su e giù ruota su e giù addirittura quando lo abbasso totalmente posso utilizzare la tv anche dall'esterno perché girandola posso vederla dall'esterno sopra abbiamo la nostra centralina quindi che ci dà la possibilità di accendere le luci accendere la pompa dell'acqua di interrogare la centralina sulla carica delle batterie del motore, dei servizi sui liquidi su qualsiasi cosa adesso vado chiaramente un po' veloce perché deve essere un video di recensione sto spiegando semplicemente un veicolo chiaramente e c'è da dirlo quando compriate il camper da gira gira oltre ad avere dei consulenti vendita che prima vi spiegano il veicolo poi nel caso vi consigliano cosa comprare e se poi si va d'accordo lo si compra ma quando si ritira il veicolo i nostri tecnici cioè il tecnico che ha fatto i lavori sul vostro veicolo vi spiegherà per un'ora, un'ora e mezza due ore quello che vi serve il veicolo totalmente dall'A alla Z qua di fianco troviamo il CP Plus CP Plus è per chi non lo sapesse lo dico sempre ma è giusto dirlo sempre così lo sappiamo tutti il comando della combi che nel caso di T-Loft è diesel la combi la gestisco da qua la combi è la caldaia pensati alla caldaia di casa ma portata sul camper fondamentalmente in cui vado a gestire il riscaldamento dell'acqua il riscaldamento dell'aria all'interno del veicolo e la reazione la reazione è chiaramente una reazione con ventoline che fa girare l'aria all'interno del veicolo mentre le due parti iniziali sono il riscaldamento dell'aria dove vado a impostare la temperatura che voglio il riscaldamento dell'acqua dove ho delle funzioni eco, hot e boost e programmazione addirittura dell'accensione di questa caldaia posso dire vado a sciare la faccio partire alle 4 di pomeriggio e la faccio spegnere alle 11 di notte di sera quindi è assolutamente programmabile le ultime due funzioni sono la gestione dell'orologio quando lo devo sistemare e la gestione dei settaggi ma quella è più una cosa nostra dicevo che il veicolo è chiaramente disponibile qua da noi è in pronta consegna adesso chiaramente siamo a fine luglio quindi non saremo pronti a darvelo per agosto ma sicuramente la riapertura potrebbe essere un mezzo interessante e l'ultima disponibilità per quanto riguarda T-Loft 450 vi ricordo che non cambia il modello sarà uguale quindi è assolutamente uguale ad acquistare un veicolo in fiera o dopo fiera parliamo di un veicolo come dicevo assolutamente continuativo e nuovo questo veicolo come lo abbiamo allestito noi più o meno andiamo sui 77.800 euro da scontare chiaramente poi ovviamente permutiamo qualsiasi tipo di camper permutiamo anche delle auto in alcuni casi quindi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento io sono Giovanni il mio numero è 338 67 60 298 e insieme ad Alessandro vi aspettiamo per farvi vedere tutta la disponibilità che abbiamo e ne abbiamo davvero tanta alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.